Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà ancora una zona di alta pressione posizionata sul Mediterraneo centrale e sull'Italia e quindi condizioni meteo buone, correnti umide in arrivo dal Mediterraneo porteranno giusto qualche annuvolamento sul versante tirrenico. In effetti andiamo a vedere la nuvolosità prevista sull'Italia, poco o nulla si intravedono queste nuvole sul Mediterraneo occidentale e appunto queste correnti umide porteranno qualche nuvoletta di tanto in tanto. Ma nulla di più da segnalare, anche come precipitazioni non capiterà nulla di particolare, non prevediamo piogge da nessuna parte per tutto il giorno. Quindi in definitiva ci attendono lunedì, un inizio di settimana ancora all'insegna del bel tempo, dicevamo che arriva qualche nuvola sulle regioni tirreniche in Liguria, nuvolosità a tratti un po' più compatta ma senza precipitazioni e poi attenzione a un po' di foschie, nuvole basse, anche qualche banco di nebbia a primo mattino sulla pianura padano orientale, specie sul basso Veneto. Con questo è tutto per i dettagli, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.